Sciopero degli insegnanti a settembre. A Madrid i sindacati della scuola hanno indetto uno sciopero all'inizio dell'anno accademico per protestare contro la mancanza di misure per prevenire il coronavirus. Lo sciopero inizierà il 4 settembre nelle scuole materne, l'8 settembre nei centri di educazione infantile, elementare e speciale, il 9 negli istituti e il 10 in tutti gli altri livelli di insegnamento. La principale preoccupazione dei sindacati è che le scuole diventino fonte di contagio. Quindi è essenziale che gli studenti mantengano una distanza di sicurezza di un metro e mezzo tra di loro. Con l'attuale numero di studenti per classe, che è di 25 nella scuola materna e primaria, 30 nella secondaria e 35 negli istituti medi, è assolutamente impossibile mantenere la distanza di sicurezza. La prima misura da applicare è quella di abbassare il numero di studenti per classe, in modo da poter mantenere la distanza. Pertanto devono essere assunti più insegnanti per poter dividere i gruppi, per poter fare gruppi più piccoli. Il governo spagnolo ha dato 2 miliardi di euro alle comunità autonome per adottare misure di sicurezza, ma ne utilizzeranno meno della metà per assumere insegnanti. Meno di 25 mila e per contestualizzarlo abbiamo la situazione in Italia, che ha già assunto 84 mila insegnanti per il prossimo anno. In Spagna siamo in una situazione piuttosto carente per stabilire questa prima misura di sicurezza, che è la distanza fra gli alunni. Tuttavia l'aumento del numero di infezioni è la chiave che determinerà quando inizierà l'anno scolastico in Spagna e in quali condizioni. Se la trasmissione continua a salire come adesso, forse non dovremo nemmeno chiederci se ci sarà o meno un ritorno a scuola. Mancano solo due settimane all'inizio del nuovo anno scolastico in Spagna. Rimane l'incertezza totale sull'organizzazione delle classi e dei gruppi a tutti i livelli di istruzione, per evitare nuove epidemie di Covid-19.